Soffri anche tu di tensione al collo e alle spalle? 21 Day Mobility Collo e Spalle è un programma specifico per liberare il collo, la zona cervicale, dalla tensione e abbassare le spalle, liberando tutte le articolazioni della parte alta del corpo. 21 Day Mobility Collo e Spalle è strutturato in 21 giorni, un appuntamento quotidiano tutti i giorni, di 15 minuti al giorno per fare insieme gli esercizi attraverso un clic sul tuo computer o un clic sul tuo telefono e sarà semplice fare gli esercizi insieme a me. Ma se non potrai essere live non è un problema perché riceverai la registrazione della lezione tutti i giorni e potrai fare gli esercizi dove vuoi, quando vuoi, in totale privacy. Insomma, 21 Day Mobility Collo e Spalle è il programma perfetto per liberare la tua zona cervicale abbassare le spalle, liberarti dalle tensioni in totale privacy e con grande facilità. Ti aspetto!